Buongiorno ragazze, allora nel mio nuovo canale, questo qua dedicato ai brochet, ci sono tanti nuovi video, andateli a vedere ragazze, buona domenica, ci sentiamo più tardi. Ragazze, io mi sono vestita, mi sono rimessa la giacchettina di ieri così gli do una lavata stasera e poi la metto via pulita. E sotto mi sono messi i jeans che mi ha fatto la mia sorella, questi, come si chiamano, verde petrolio, così, e ai piedi ho i, come si, i biker boot, che sono vecchi di quando andavo in moto, però vabbè, sempre di moda, sempre attuali. Ok, non mi trucco perché mi fanno male gli occhi stamattina. Strano, ma vero, ieri si vede che l'ho stressati tanto con il trucco e oggi, vabbè, ora mi do una sistemata, mi metterò un po' di mascara e via. No, ma guardateli, culo a culo, bellini. Allora, niente, ho preso delle cosine qua su, su Asos e, però non so com'è, ah ecco, ecco, ho preso delle, delle cannottierine 4 euro, una e un'altra 4,49. E poi ho preso un paio di pantaloni, ora vi faccio vedere tutto, aspettate che... Ho preso questa cannottierina qua che mi piace tanto, bianca, poi ho preso questa magliettina rosa, com'è, lilla, color lilla, e questi pantaloncini qua mi piacciono tanto, è proprio fucsia. Sono venuta fuori intanto, aspetto, aspetto la chicca in macchina, mamma mia il freddo che è, sono pochi gradi, c'ho un bus demolito, però vabbè, c'ho anche la borsa lì perché è pesante, e Lallo stanno andando giù a prendere la macchina di Dani, ora non so se non si vede più. Vediamo perché si aspetta Dani? Ah, forse vuole venire qua, allora vavo, ecco, ora arriva subito Nat, ora si va a dir lì un attimo, mette le fattro frecce così, sei a posto tutto. Quanto è piccina, quanto è piccina, madonna, che spettacolo di gioia, la gioia divina, amore della nonna, quanto è bellina, guarda, piccina, amore, eccola, la mi fa serottina, madonna, vedi alta quanto è la macchina, amore, stella, e noi ora partiamo, mi sono messo a sto cappottone, questo più pesante, anche questo mi ha fatto la mia sorella, proprio bello, elegante, c'è i bottoni qua, proprio bello, c'è il doppio petto sul davanti, poi magari ve lo faccio vedere meglio quando siamo arrivati, ovvia, c'ho un freddo addosso stamattina, ma freddo eh, allora ragazze, siamo arrivati, io, ora portavo la macchina da fuman cucina, mi sono fumata al cecchino ora, perché dopo, ah, eccola, non è, eh, dove è la strega, dove è la mia streghetta? Fugge, è lina, eccola, il drone vola, ora ragazzo vi fa qualche ripresa qualche volta eh, si metta, ciao carotina, andiamo da nonna dentro, guarda un po' a meme che c'è, guarda che c'è babbo, uh l'elicottero, chi fa una pochina miseria, oddio che roba è meme? ah, boom, madonna, ha terminato già, cominciamo a levare tutta la roba, eh, vedi bellino questo, gli stadi vestitino, andala a mettere, il vestitino d'oro lei, questo no si rompe, questo si rompe, rimettiamo fiorellini dentro, questo si rompe, ovvio, eccoci, tutto, no, quello lo puoi tenere, questo lo puoi tenere tutto, capo, lei va di cosa che lei, vedi, me lo prendi quello eh, me li hai cascato, oh mamma te, ecco, grazie amore, oh me li hai cascato, lei prendilo, via, ora libri, la celestà, i libri no, è vero, ha ragione amore, mannaggia, guarda, anche te, nasce presto così, quello si è fatto tu o nel maglione? Eh, appunto, ci si sta bene, il maglione, ieri sera venne, si fradiciò tutta, dico, ho mettiti sto maglioncino, lì, un riso al pesce, basta, basta, via, attenta, su, vedi bella, facciamo pizzichi, ai, se no, non gli sciupi il pranzo, non glielo dà ora, guarda, la polenta dura, guastita, guarda, buona, guarda, 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 non glielo dà, te lo, giuro, glielo dà, via, salace dura eh, dopo non mangia, c'è l'altro, eh, ora non è secondo stretto stretto, eh, vada amore, ora c'è la pappina, vieni, se ne la proponi è logico, ma poi lei sciucca, ora, no, so, fa fisca, guai, no, 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 chiepesle, c'è l'esercizamento di cosa, non là,ами, ma trying isn't his sword essentially, Vieni cuoricino, vieni. Vieni principessa, vieni per lei a sedere. Eh, si sa. Ma dopo che ha letto, mamma, la vita? Ma non fosse quello che fosse fatto lì nel libro? Sì, una tortina della figlia. Ma dove è l'altro? E allora mettiti l'acqua lì, vieni a fare l'acqua. L'avete visto un gallo con piede rosso? E' uno giallo. Lo provo direttamente a te, per te. Tuoi bibacono. Che cosce? Non glielo ho fatto un po' Guarda, questa appena piccinina. Dicono, non mangia. Mamma mia. Guarda, scennetti per la mattina. A me se non me lo dice. Beh. Ho come sarti di bianca, sta a capo. No, no, no. E' una cosa ce l'ho di più difficile? la rosina cara rosina allora le posate il vino e via vediamo un po che c'è qua che c'è lo zampone poi che abbiamo eveli che beve la ghiottone polenta gnammi gnammi qui che c'è se no io che vorrei e e qui c'è le le sticchie un bacino a mamma emily un bacino a mamma amore lei ha mangiato tutta la pappa è proprio brava me lo dai un bacino ma quello lì ti hai dato brutta streghetta ti coce tutta la bocca oggi pasta spaghetti allo sfoglio io vabbè ce l'ho altri queste per loro aspetta che spostiamo tutto meme è mangiato vero abbiamo mangiato amore grazie a quello c'è di voglio la pelle di nonna senza glutine gnam gnam e poi un pochino di paste eh sono piccanti e poi ci abbiamo la porrenta con il sugo di pomodoro e cipolla con tipo lascini che c'è tieni tieni è un sugo che fanno qui a castellazzara è buonissimo aspetta emily no questo no volete il piattino per me eh il seccio il seccio il seccio pure pure con lo zampone gnam gnam va buono gnam 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 te lo rimetto lì gnam gnam che fai cimietta mica merda che fai cimietta a proposito di merda poi c'è questo zampetto con le lenticchie sai quanto c'ha da fare ora martedì lo chiamano guarda vengono tirati tutti i tuoi mandarini e ti mangi? no secchi siutti dicevo la toglie e la nenè è su che la guarda nenè tonda allora per loro c'è la crostata di mele c'è anche il vassoio fresca anche per me la crostata della nonna crema la crostata della nonna come è chiamata? questa è la mia quella senza anche i vassoio c'è il vassoio e poi c'è da fare lo stencil no no c'è lo stencil da sopra è bellino c'è lo stencil per farci bellini sopra aspetta che può vedere la scatola perchè non lo so se alcune dopo me lo chiedono questa qua è questa qua è torta crema nocciola che fa? senza glutine senza olio di palma è quello della hobby comunque ragazze una situazione attuale una situazione attuale una situazione attuale chi fa il il suo scaldacollo come si chiama? Lorenzo gioca non so a che giochino che è questo giochino un passareno un passareno giochini laserici ho portato anche il cappuccino che bevina viaggiata sta puzzolosa un lampo non lo voglio non lo voglio aspetta ci sarà bambostalla? non lo so non lo so non lo so ma era addormentata mi si addormentata come una tonta mi guarda la nonna mezzo divano e mezza donna ciao nonna che è arrivato la zia la zia nana e fai le unghie alla Teresa la zia chino e l'ha messa nuova la quina che colore hai scelto? mamma sanna mi scappa la pipì papà che fai Emily? che fai? che fai? mangi il pa? in un vasetto che quattro libri non ha più finiti la zia non ci ha più pensato che mangi? che mangi? il panino buono panino buono 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 panino buono panino buono panino è 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 buono panino sono andati via tutti e noi la sistemiamo qui e poi andiamo anche noi facciamo un po' di ordine quindi ragazze io vi saluto con questo vlog non so quanto è durato perchè non non ci fa mai caso quanto dura e ci sentiamo al prossimo vlog ciao